A tua madre cosa hai detto? Non l'ho mai saputo Assolutamente no Non l'ho mai saputo È stato un segreto che tengo custodisco dietro di me anche perché ne ho mangiate tantissime e poi c'era anche il problema che non dovevi fare il bagno dovevi aspettare tre ore dopo aver mangiato certo che se mangi un pezzo di pane intinto l'acqua puoi farlo anche subito insomma non è che puoi aspettare tre ore con la lasagna ci sarebbero più problemi però in realtà insomma alla fine è prevalso lo stomaco rispetto al cervello curato lo stomaco